Siete pronti? Allora adesso amici andiamo ad ascoltare i ragazzi di Bimsy Style. Ciao sono Carlo Leone, arrivo da Cairo Montenotte, sono qui a Sanremo con il soprano Daniela Tesore, la sua scuola di canto che è il Music Style Atelier delle Voci e il secondo anno che sono qui a Sanremo, sono molto onorato di partecipare a questo evento. Il mio pronostico è per il Trio Il Volo e per campanilismo però ti fa anche per Annalisa. Ciao a tutti, mi chiamo Fulvio, vengo dalla Val Borbida e faccio parte del gruppo Music Style Atelier delle Voci di Daniela Tesore, un soprano veramente ad alti livelli, più che un insegnante e una carissima amica. innanzitutto e vi posso dire che aspettavo con ansia questo momento perché io sono parecchi anni che sto seguendo questi eventi collaterali del Festival con il gruppo dell'Atelier delle Voci. Io presumo e mi auguro che vinca almeno una mia se non nostra conterranea l'Analisa che ci teniamo in modo particolare che rappresenta appunto la Val Borbida e anche la nostra Liguria. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Roberta Blangero e faccio parte del coro di Music Style Atelier delle Voci, diretto dal soprano Daniela Tesore. Sono felicissima di partecipare a questo evento collaterale a Sanremo, in occasione del Festival dove si respira musica ed è tutto magico. Ci sono tantissimi nomi in gara interessanti. La mia preferita però è Fiorella Manoia che spero che vinca. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao a tutti, sono Raffaella Garrone da Cairo Montenotte e sono veramente felice di essere qua agli eventi collaterali del Festival di Sanremo e vorrei che vincessero Renga e NEC. Speriamo. Ciao, sono Marco Ferrieri, cantautore. Sono qui a Sanremo per gli eventi collaterali del Festival e ne sono molto orgoglioso. Quest'anno spero che vinca Clara. Ciao, sono Enzo, sono contento di essere qua a Sanremo, faccio parte del gruppo Atelier delle Voci Music Style di soprano Daniela Tesore e spero tanto che faccia una bella figura, la farà bella sicuramente, però io tifo Forza Loredana, Berti! Ciao, sono Giussi Varaldo, ho 45 anni, vengo da Cairo Montenotte, faccio parte del coro l'Atelier delle Voci Music Style di Daniela Tesore e sono qui a Sanremo per partecipare a un evento collaterale legato al Festival di Sanremo e sono molto contenta di essere qui. Questa è una manifestazione che mi piace molto perché mi ricorda quando ero bambina e guardavo il Festival sempre con i miei genitori, sempre con i testi di TV Soride e Canzoni sotto gli occhi e per imparare tutte le canzoni il più presto possibile. Mi piace molto questo Festival e vorrei che lo vincesse Loredana Bertè perché se lo merita. Grazie, ciao, grazie a tutti e buon Festival! Ciao, sono Loredana, faccio parte del gruppo Music Style Atelier delle Voci di Daniela Tesore e sono la prima volta, la mia prima esperienza qui a Sanremo, sono sicura che sarà una cosa molto bella e emozionante e mi auguro che vinca Annalisa. Divertitevi e grazie, ciao a tutti! Ciao, sono Sara Baldi, ho 19 anni, vengo da Caromentenotte, faccio parte del coro Music Style Atelier delle Voci del soprano Daniela Tesore e guardo Sanremo con la mia famiglia, mi piace tantissimo e spero che vinca la nostra compoesana Annalisa. Ciao, sono Sofia, ho 7 anni, canto con Daniela Tesore, sono felice di andare a Sanremo e quest'anno vorrei che vincesse Angelina Mango. Ciao, sono Sergio, faccio parte del coro Music Style Atelier delle Voci della cantante Daniela Tesore, vengo da Cairo, è la prima volta che faccio questa esperienza e sarei molto contento se vincesse Annalisa. Ciao, sono Valentina, vengo da Vormida, faccio parte del coro di Music Style Atelier delle Voci del soprano di Daniela Tesore e mi piace tantissimo il festival, lo guardo sempre con la mia famiglia e quest'anno spero vinca Mr. Rain. Ciao, sono Giulia Bertin, ho 20 anni e faccio parte del Lab Fab Theatre di Cairo Montenotte, mi piace tantissimo Sanremo e sono molto contenta di partecipare a questo evento collaterale e siccome lo seguo da tanti anni, siccome Emma è la mia famiglia, è la mia cantante preferita, spero che vinca lei. Ciao, sono Leonardo, canto con Daniela Tesore, ho 8 anni, sono felice di essere a Sanremo e quest'anno spero che vinca il festival Florello Manuio. Ciao, sono Giorgia Ravazza, ho 20 anni e faccio parte del Lab Fab Theatre diretto dal registro Antonio Barra. Sono molto felice di essere a questo evento collaterale di Sanremo e spero che vinca San Giovanni. Ciao, sono Massimo Ravazza, ho 47 anni, faccio parte del Music Style Atelier delle Voci del soprano Daniela Tesore, sono contentissimo di essere a questi eventi collaterali di Sanremo per la seconda volta e spero tantissimo che vinca Annalisa in quanto è nostra compaesana. Ciao, mi chiamo Daniele Pistone, faccio parte del gruppo Music Style Atelier delle Voci del soprano Daniela Tesore, sono molto contento di partecipare a questi eventi collaterali del Festival di Sanremo e vorrei, spero che vinca Annalisa perché è una nostra vicina di casa. Ciao, sono Gabriele Ferraro, ho 14 anni, faccio parte del Lab Fab Theatre, canto a Music Style e questo festival spero che lo vinca Annalisa. Ciao, mi chiamo Leonardo Luisi, ho 10 anni, canto con Daniela Tesore e spero che vinca in lama. Ciao! Ciao, sono Giada Santaeguida, faccio parte del laboratorio teatrale di Cairo Montenotte e quest'anno spero che vinca il Festival Matteo Paolillo. Ciao, sono Alice Santaeguida, faccio parte del laboratorio teatrale di Cairo Montenotte e quest'anno spero che vinca Sanremo e i Rama. Ciao, sono Martina Navazza, ho 11 anni e vengo da Pallare, canto con Daniela e faccio anche parte del laboratorio teatrale. Quest'anno al Festival spero che vinca Annalisa. Ciao! Ciao, sono Sofia Perrone, ho 19 anni, vengo da Cairo e qui studio anche con il laboratorio teatrale di Antonio Barra, in LabFab Theater. Quest'anno, beh, visto che abbiamo una star delle nostre parti, mi farebbe molto piacere vincesse Annalisa. È davvero un orgoglio essendo Lady Carcare. Ciao, sono Susanna, arrivo da Pallare, faccio parte delle voci di Daniela Tessore e sono molto contenta che Daniela e mia figlia, che mi ha portato a cantare con lei, di partecipare a questo evento collaterale ed essere qua a Sanremo. amo Sanremo specialmente, vedere Sanremo alla televisione e non, infatti in questo periodo sono già due anni che veniamo qua a Sanremo con Daniela ed è una nostra tradizione di famiglia guardarlo con le mie figlie, o sul divano o sul tappeto. ed è bellissimo vedere delle bambine dai 7 agli 11 anni guardare questi cantanti appassionati e alcune volte fare anche il tifo da casa. Adesso è bello perché vedo mia figlia che fa il tifo anche da Sanremo, proprio direttamente. A Sanremo quest'anno ci sono diversi cantanti giovani e nonne, tipo la Manoia e Angiolina, che è una nuova promessa delle canzoni, Irama e Emma, però fra tutti io mi piacerebbe che vincesse Annalisa Scarrone perché comunque è una mia vicina di casa. Ciao! Ciao! Ciao!